A maniera, vince la prima forma, prima finale della giornata per me che riguarda le sedivisioni del campionato per la divisione 1, la staccata, prendiamo subito, per fare, per l'obiettivo, a un certo bene, 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 a un certo impossibilità, intanto Ferretti recupera dal fondo che ha già messo in centro 3, uno di questi però è a partito dal quadro del Tristoni proprio, intanto l'unica dei problemi colpendo l'ascosto e la scoglia fatica, un piccale del campionato europeo, Eddie Cross, Tristoni Massi ci trova a prendere terra pieno, deve avere sicuramente dei problemi, gli aderenti intanto per farla anche Cristian Garone, forza a Cristian dopo quello che ci è successo, l'inniere a Manc tre. Prossimo, Cristian Garone si vada a attaccare, da vicinissimo, Cristian Garone che per il Il momento resiste benissimo dalla sua post-Compus, il numero 25, dietro il qualsiasi sento il turno, non resiste, se viziana, sul piede e via, poi qualsiasi sento il quattro, abbiamo Carai, quindi non vi è fina, intanto sta recuperando il piede, o almeno ce l'auguriamo, c'è un'ultima perrede in questo momento, è in estetima posizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.